Buongiorno, la situazione è questa, positivo, tre dosi, positivo, una dose, positivo, una dose, positivo, due dosi, positivo, due dosi, due dosi, positivo, due dosi, due dosi, due dosi, due dosi, due dosi, due dosi, due dosi. Positivo, due dosi, due dosi. Due dosi, due dosi, due dosi, positivo due dosi, due dosi, due dosi, positivo due dosi, positivo due dosi, positivo due dosi, positivo due dosi, tre dosi scusate, positivo due dosi, positivo due dosi, grazie mille, grazie a voi. Positivo tre dosi, positivo due dosi, due dosi, scusate, questo positivo non vaccinato, positivo due dosi, positivo due dosi, poi positivo non vaccinato, positivo non vaccinato, positivo due dosi. e non faccio commenti dico solamente quello che vedo grazie